salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo è un piccolo video informativo per tutti i clienti o mobile o chi magari ha intenzione di diventarlo sì perché l'operatore virtuale di vodafone appunto o mobile di cui io sono cliente da quando è uscito praticamente dal giorno del lancio ho provato a fare quella sim e l'ho tenuta fino adesso pago 7 euro e 99 al mese con una copertura ottima perché comunque è la rete vodafone però ho fino adesso aveva dei limiti a livello di prestazioni così erano i limiti che in download era bloccato a 30 megabit al secondo quindi non a 60 come vodafone e poi non aveva la possibilità del 5g c'erano i vari pacchetti di giga disponibili per ampliare tutto quello che è appunto la necessità di ognuno di noi però non c'erano queste evoluzioni livello di prestazioni e da pochi giorni anche questo è cambiato sì perché praticamente adesso si passerà ai 60 megabit al secondo per il 4g senza costi aggiuntivi quindi ci troveremo senza aver fatto niente a non avere più il blocco di 30 megabit al secondo e poi se volessimo entrando nelle impostazioni dell'applicazione o si può già attivare a 99 centesimi al mese in aggiunta a quello che era già il costo mensile che già paghiamo possiamo avere il 5g incluso quindi io pagherei 7 99 più 99 centesimi di 5g infatti l'ho attivato è semplicissimo basta entrare nell'applicazione di o andare a fare questi piccoli passaggi fino a quando vi arriverà l'sms nel giro di una decina di minuti dicendovi che avete messo il turbo e adesso avete il 5g quindi secondo me davvero interessante come offerta soprattutto perché già cliente o avere questa possibilità e poi adesso col 5g disponibile anche per chi magari vuole diventare cliente o perché comunque adesso si ha delle prestazioni importanti anche con questa rete low cost virtuale che prima ovviamente era un pochino limitata adesso vi lascio anche lo screenshot del di quello che sono le prestazioni del 5g dove abito io quindi poi ognuno dipende dove ha l'antenna che distanza la saturazione in quel momento comunque questo screenshot io l'ho fatto alle 8 di sera e ragazzi guardate le prestazioni secondo me sono molto molto interessanti quindi ragazzi questo piccolo video informativo finisce qui mi raccomando se il video l'avete trovato interessante e utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità ante prime spoiler cose curiose arrivano su instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dopo ho tantissimi cupo sconto riguardante tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche un video una recensione un tutorial o una novità come questa ciao e al prossimo video iscrivetevi al canale